Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial, questo è il video che vi spiegherà come fare l'origami per il compreno di Osek. Per noi abbiamo scelto il fiore verano e il colore, possibilmente se lo avete, dovrebbe essere un rosa molto acceso. Nel tutorial come vedrete io come al solito ho usato un altro colore per fare la prova, comunque voi se potete utilizzate un rosa molto acceso. Tutto quello che vi servirà saranno solamente due fogli, uno appunto rosa magenta acceso e uno verde. Direi che sia tutto e direi di non aver dimenticato niente e man mano come sempre durante il video se avrò bisogno di specificare qualcosa in particolare ve lo farò sapere. Ovviamente il procedimento per fare il fiore in sé e per fare sotto le foglie è lo stesso essenzialmente, quindi io vi farò vedere come ho fatto il fiore e voi potete ripetere lo stesso procedimento per la parte delle foglie. Il risultato sarà qualcosa del genere, quindi come potete vedere sono due pezzi collegati, però il procedimento per farli entrambi è lo stesso. Quindi niente vi lascio al tutorial e buon origami! Il risultato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti